Amici e amici di BPM Power, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della scopa elettrica senza filo Xiaomi Vacuum Cleaner G10. Prima di iniziare però vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube ed attivare la campanellina per non perdere nemmeno un nostro video. Iniziamo subito! A differenza di altri modelli lanciati dall'azienda, lo Xiaomi Vacuum Cleaner G10 integra un potente motore da 600 Watt ad alta velocità, abbinato ad un sistema di filtrazione basato su 12 ciclone. Grazie ai 125.000 giri al minuto e offerti dal motore, questo aspirapolvere senza filo Xiaomi riesce a raggiungere una potenza di aspirazione di 150 Watt, il che consente di intrappolare fino al 99,97% delle particelle di polvere, comprese quelle invisibili all'occhio umano, come quelle di polline o della muffa. In più è in grado di lavorare perfettamente su pavimenti di qualsiasi tipo e anche moquette. Xiaomi aspirapolvere G10 misura 21,4 x 128,6 x 25,6 cm per un peso di circa 3,7 kg. È caratterizzato da uno schermo LCD attraverso il quale è possibile visualizzare la potenza di aspirazione e la batteria residua. Questo aspirapolvere cordless Xiaomi dispone di un piccolo serbatoio da 250 ml e di un panno rimovibile e lavabile. Per quanto riguarda l'autonomia, lo Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è dotato di una batteria da 2200 MHz in grado di durare fino a 65 minuti in modalità eco, 30 minuti in modalità standard e 10 minuti in modalità massima potenza. Per ricaricarsi impiega circa tre ore e mezza. Potete trovare la scopa elettrica Filo Xiaomi Vacuum Cleaner G10 su BPM Power cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non lo avete ancora fatto vi invito ovviamente ad iscrivervi al nostro canale YouTube, a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Mi raccomando non dimenticate di attivare la campanellina per non perdere nemmeno un nostro video. Ciao a tutti e alla prossima!